Situazione stabile in provincia di Caltanisetta rispetto a ciò che riguarda i contagi, sono 165 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, 58 sono di Caltanisetta, 44 sono di Gela, ci sono state anche due dimissioni nell'arco delle 24 ore. E quindi rispetto ai dati che riguardano l'ospedale Sant'Elia per i ricoveri in malattie infettive, sono 41 i ricoverati in malattie infettive, mentre sono 14 i nisseni e restano 8 i ricoverati gelesi, 597 i positivi in quarantena domiciliare, 595 invece i positivi in quarantena domiciliare. A Gela, Villa Alba resta l'unico paese della provincia covid free, 2355 sono i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.